Il Museo Leonardiano di Vinci ha riaperto pochi giorni fa dopo i mesi di sospensione a causa della pandemia da Covid-19 e il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, lo ha visitato insieme al Sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, e alla direttrice Roberta Barsanti. Una riapertura importante è quella avvenuta nel borgo dove Eugenio visse, anche se al momento per il DPCM in vigore, i visitatori potranno arrivare solo dalla Toscana, visto il divieto di uscire dalle regioni, e potranno vedere le invenzioni di Leonardo solo nei giorni feriali. Vinci è diventata una città di attrazioni a livello internazionale che si colora della figura di Leonardo, ma non solo, perché vedete siamo in Piazza dei Guidi, la famiglia Guidi era quella che nell'Alto Medioevo, dalla Romagna fino a questa parte di Toscana controllava un territorio, Guido Guerra è citato da Dante nella Divina Commedia con grandi riferimenti. Quindi siamo nei luoghi storici di una Toscana che dal Medioevo passa al Rinascimento e nel Rinascimento fa sbocciare il genio di Leonardo. In questi mesi di chiusura il Museo Leonardiano ha preparato dei nuovi allestimenti che saranno inaugurati in primavera. Dove avremo dei sistemi multimediali che aiuteranno a far comprendere e capire meglio l'opera del grande genio. Investire in cultura è importante perché io penso che dopo il superamento di questa difficile crisi sanitaria si è trasformata anche in crisi economica, la cultura può essere uno degli elementi che possono far ritornare a crescere il nostro sistema economico. La Toscana in questo è unica. Il Museo Leonardiano di Vinci è composto da diverse sedi, dalla Casa di Natale di Leonardo fino al Castello dei Conti Guidi e tutte sono state riaperte.